Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Audizione in seconda commissione dei vertici di SASE, la società di gestione dell'aeroporto, per una informativa sulla situazione generale dello scalo perugino. Vediamo. Sono stati il presidente di SASE S.P.A., la società di gestione dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, Ernesto Cesaretti, e il direttore generale di sviluppo Umbria, socio in rappresentanza della regione, Mauro Agostini, ad illustrare ai commissari della seconda commissione consigliare l'attività e i programmi dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco. Tra i passaggi di maggiore interesse, emersi dall'audizione, la previsione dell'inizio lavori a giugno per la realizzazione dell'Accademia del Volo, il progetto di un collegamento collinate Milano, il rinnovo della concessione ventennale nel 2018 da parte di Enac, grazie al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e all'incremento dei passeggeri. Il presidente di SASE, Cesaretti, ha tenuto a rimarcare che gli obiettivi per il triennio che si avvia a conclusione sono stati quelli di salvaguardare l'aeroporto per il mantenimento della concessione. Nel frattempo si sono registrate cancellazioni di volo da parte di due compagniere che hanno causato la perdita di circa 40.000 passeggeri recuperati in parte con i voli esistenti, soprattutto quelli con Londra, dove per il periodo estivo sono previsti sei voli settimanali. Un nuovo indirizzo è rappresentato da Malta, mantenendo poi Catania e Bruxelles, ed è grazie a queste prese di posizione che l'aeroporto potrà mantenersi su circa 230-240.000 passeggeri. L'intenzione è puntare sulla crescita dello scalo, ma occorrono nuove risorse. È immerso anche che dal 2019 la Camera di Commercio di Perugia, azionista di SASE, che versava alla società circa 1.100.000 euro all'anno, ha ridotto il contributo a 400.000. Per quanto attiene all'Accademia del Volo, che comprenderebbe hostess, meccanici fino ai piloti di aerei, elicotteri e droni, una società di matrice inglese ha proposto di poter investire nello scalo di Perugia circa 70 milioni di euro. Studi legali e di consulenza di SASE stanno predisponendo un contratto da firmare entro questo mese di aprile, affinché a giugno possano iniziare i lavori. Obiettivo di SASE è quello di attivare una linea che colleghi Perugia con Milano Linate, in modo da far sì che i passeggeri, tra cui i loro tecnici, abbiano la possibilità di collegamento con Perugia. È stata quindi predisposta una manifestazione di interesse che scadrà il 15 aprile prossimo. L'auspicio è che si possa partire con questa nuova linea. Ai vertici di SASE, in particolare al direttore generale di Sviluppo Umbria, sono stati chiesti chiarimenti in merito a una mozione, approvata a larga maggioranza dall'Assemblea legislativa lo scorso 3 dicembre, nella quale si chiedeva, tra l'altro, alla giunta di Palazzo Donini, di promuovere un superamento del CDA attuale della SASE, al fine di avviare una nuova fase per il futuro dello scalo. A ciò è stato risposto di non avere ancora ricevuto alcuna comunicazione in proposito e che comunque l'attuale CDA è in prossimità della scadenza, sottolineata infine la necessità di stimolare la partecipazione di altri comuni, oltre a quelli che ne fanno già parte, per accrescere gli investimenti. Oltre a ciò, l'auspicio è quello di uno sviluppo della intermodalità e della connessione ferroviaria. La terza commissione consigliare ha approvato la relazione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Stefano Anastasia, in ordine all'attività svolta nel periodo giugno 2016-dicembre 2017, ma il garante si è presentato all'incontro con i consiglieri regionali, fornendo anche dati più aggiornati rispetto alla relazione che per legge deve sottoporre all'esame dell'Assemblea. Paolo Giovagnoni. Al 31 marzo di quest'anno nelle carceri Umbre si trovano 1.434 detenuti, a fronte dei 1.329 posti regolamentari, quindi sono un centinaio oltre la capienza. La presenza di stranieri nelle carceri della regione ammonta al 40,8% a fronte del dato nazionale del 34, ma nel carcere perugino di Capanne il 68% non sono italiani. Sopra la media nazionale anche la presenza di condannati definitivi, 77%, l'Umbria ha la massima concentrazione a livello nazionale di detenzioni lunghe e il più alto numero di 41 bis sul territorio italiano. Il 16% dei detenuti sconta pene da 0 a 1 anno, un dato che, nella riflessione del garante Stefano Anastasia, dovrebbe spingere a optare per misure alternative al carcere, onde evitare il sovraffollamento. Le principali criticità riscontrate dal garante sono la crescita della demografia penitenziaria abbinata alla scarsità delle risorse pubbliche disponibili, le condizioni di vita e di salute dei detenuti sono contrassegnate dalla difficoltà di accedere alle visite specialistiche e agli esami diagnostici, la riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia, che ha portato a un unico provveditorato fra Umbria e Toscana, con molti trasferimenti nelle carceri Umbre, di detenuti che hanno generato problemi di gestione psichiatrica o disciplinare negli istituti di prima assegnazione, con violazione del principio di territorializzazione della pena, sottolinea il garante. E sempre la terza commissione ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione su attuali criticità della cardiologia riabilitativa in Umbria e proposte di miglioramento da accogliere nel nuovo piano sanitario regionale. Paolo Giovagnoni. Con la proposta di risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Sanità e Servizi Sociali, si impegna la Giunta a definire le procedure idonee affinché i pazienti cardiopatici che hanno subito un intervento vengano presi in carico dalla cardiologia riabilitativa e vengano applicate linee guida dalle quali risulti, già nella lettera di dimissione dell'ospedale, la struttura presso la quale iniziare l'attività di riabilitazione e la data del primo appuntamento. Prevedere inoltre la creazione della degenza riabilitativa che consentirebbe di decongestionare le cardiologie e cardiochirurgie considerato che dopo l'intervento e la dimissione alcuni pazienti hanno l'esigenza di essere seguiti H24. La proposta della Commissione è scaturita dalle istanze emerse nell'audizione richiesta dal coordinamento delle associazioni regionali del Cuore, Amici del Cuore Onlus di Gubbio, Anacca di Gualdo Tadino, Amici del Cuore Cardiopatici Alta Valle del Tevere di Città di Castello, Cuor di Leone Onlus di Perugia e Amici del Cuore Valle Umbra Sud di Foligno Spoleto. Si prevede anche l'istituzione di un soggetto coordinatore con il quale tutte le associazioni possano interfacciarsi al fine di consentire loro di svolgere attività di prevenzione attraverso una idonea programmazione concordata con le istituzioni sanitarie. Si chiede anche un'indagine conoscitiva e una mappatura sui defibrillatori esistenti, individuando al contempo un soggetto che ne controlli l'effettivo mantenimento in funzione. La proposta di risoluzione ora andrà al vaglio dell'Assemblea. A Palazzo Cesaroni una giornata di riflessione e confronto con gli studenti Umbri sul tema Giovane Europa, la nostra Umbria di fronte alle sfide del cambiamento. Ce ne parla Marco Paganini. Una nuova mattinata di riflessione e confronto sull'Europa nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria con la partecipazione degli studenti degli istituti di Perugia Bernardino Di Betto, Giordano Bruno, Capitini, Volta e Alessi. Coordinati dal giornalista Italo Carmignani che ha introdotto e inquadrato i vari aspetti della problematica europea, i relatori hanno sviluppato i propri contributi sotto il profilo giuridico, economico, sociale e comunicativo. Dell'esigenza di un nuovo protagonismo delle regioni che rilanci l'idea di un'Europa di pace in contrapposizione allo spirito nazionalistico e secessionistico che sembra profilarsi, ha parlato Luca Castelli e Francesco Clementi si è soffermato sulla necessità di costruire solide radici politiche comuni per superare quella modalità di costruzione dell'Unione che ha aprilio eleggiato invece la moneta e la finanza. Simone Budelli ha rimarcato che per costruire l'Europa dobbiamo riscoprire le nostre radici con i simboli, con la memoria e con un progetto andando oltre i trattati e le regole giuridiche. Per Luca Ferrucci occorre riflettere e ripensare le modalità di azione degli ultimi 20 anni costruendo comuni politiche del lavoro, fiscali e di welfare. Infine Marco Mazzoni ha parlato di come i media comunicano l'Europa delle difficoltà oggettive nella costruzione di un'immagine efficace insistendo sulla necessità di dedicare spazio e attenzione a questi temi. L'iniziativa promossa e organizzata dalla Presidenza della Conferenza dell'Assemblea Legislative delle Regioni Europee verrà replicata nelle prossime settimane a Nolcia e Orvieto. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Alla prossima settimana. Grazie per aver guardato il video.